Leggo anche molte sciocchezze in questi giorni, questa giunta ha scelto di abbandonare la strada dell'incenerimento dei rifiuti e di abbandonare la costruzione dell'inceneritore a Napoli-Est, per cui noi scegliamo la strada della realizzazione degli impianti per il trattamento della frazione unica, davanti alla gara deserta noi abbiamo fatto una nuova valutazione e noi siamo davanti a un project financing. Quello che mi lascia interdetto è la scelta del territorio, va bene il piano di compostaggio, tutte le loro nostre garanzie, un territorio devastato mediaticamente e fisicamente, mediaticamente e fisicamente. Perché, purché tutto sia fatto, Vice Sindaco, la norma di legge senza creare alcun disagio alla popolazione, questo secondo noi è una condizione necessaria, questa cittadinanza che qui rappresento non può occorsi a un ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti che prevede anche il compostaggio. Soprattutto quando poi non riciclare l'umido e non fare raccolta differenziata porta verso le soluzioni quali inceneritori e discariche, qualcosa ne sappiamo bene. Grazie. 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 Grazie.